Questo è un cappotto che ha tanto da dire, intanto il tessuto, un bel misto cashmere con questo spinato molto largo, in questo blu un po' melange, davvero bellissimo. Un bel doppio petto, da notare il bavero, un tipico nostro bavero per i cappotti che si può portare in due varianti, sia alzato che abbassato, veramente bellissimo. La tasca è una tasca toppa, compattina, molto comoda, molto calda, bella, da notare questo dettaglio molto bello sulla manica, questa manica risvoltata con lo spacchetto laterale, che secondo me dà una grande ricchezza alla manica stessa, gli dà importanza, gli dà peso, la fa cadere meglio, un elemento su cui ci concentreremo anche su altri capi. Il retro ha da dire tanto quanto il davanti, da notare il nostro tipico soffietto centrale, due pence laterali che danno comodità, morbidezza, facile ad uso, questa bella martingala volontariamente morbida, che è un effetto un po' di classe, che ci sta bene in questo tipo di cappotti, e un dettaglio che mi piace molto, che è lo spacchetto tenuto fermo dai bottoncini interni, tenuto chiuso ai bottoncini interni, veramente un dettaglio. È da notare poi come il sottocollo si è realizzato con lo stesso tessuto con cui abbiamo realizzato il capo stesso. E quindi questo è un prodotto che ha delle caratteristiche importanti, una grandissima versatilità d'uso, una facilità di abbinamento, ed è un prodotto che viene scelto, secondo me, da chi ama prodotti con storia e con tanti dettagli da raccontare. Spero che il capotto e che il video vi sia piaciuto, ci vediamo da Tazzardo.